amici di the one channel sono anch'io millesimato ebbene sì abbiamo raggiunto i mille iscritti al canale questo era un traguardo che fino a poco tempo fa pensavo fosse irraggiungibile e invece grazie a voi lo abbiamo raggiunto vi ringrazio per tutte le visualizzazioni per tutti i commenti e anche per le domande che mi fate sotto i video o sulla pagina facebook o il canale instagram e vi invito a continuare a farlo e continuare a seguire tutte le varie puntate del canale ma vi ringrazio anche perché probabilmente avrete consigliato questi video anche ad amici parenti colleghi o in genere appassionati del mondo del vino quindi vi ringrazio veramente tanto sono contento di aver raggiunto questo traguardo e spero che la nostra ormai lo posso dire piccola community possa crescere ancora di più e per fare questo quindi cosa bisogna fare semplice continuare a seguire le mie puntate cliccare sulla campanella mi raccomando per essere sempre aggiornati sulle uscite dei nuovi video così mi arriva la notifica continuate ovviamente a consigliare il canale a tutti coloro che possono essere interessati a conoscere qualcosa in più del mondo del vino e continuate come sempre a scrivere domande o fare commenti al di sotto dei video o sulla pagina facebook o la pagina instagram ricordandovi come sempre che i minori di 18 anni non devono bere e che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose io vi faccio un grande saluto di nuovo un enorme grazie a tutti voi da parte di The Wine Channel e di Francesco un ciao alla prossima puntata